Il videogiornale all'Istituto Alberghiero Ambrosini a Favara in occasione della presentazione di alcune iniziative. Un'attività che ci ha molto divertito perché siamo partiti dall'idea di raccontare la storia che vivono i ragazzi quando decidono di iscriversi in questo istituto. E allora abbiamo voluto coinvolgere soprattutto i giovani, i nostri studenti che si sono prestati a fare da attori, due giovani che lo hanno realizzato, sui quali abbiamo riposto tanta fiducia perché abbiamo fiducia nella possibilità che i più piccoli, che poi diventeranno professionisti in quello che qui cercheremo di accompagnarli ad acquisire, e appunto loro possono veramente, se studiano tanto, se si impegnano, se credono in quello che fanno, se hanno un sogno da portare avanti, possono riuscire ad affermarsi nella cosa che più loro piace. Naturalmente la realizzazione di questo spot è stata un'occasione perché i ragazzi che frequentano questa scuola riescano a rafforzare il loro senso di appartenenza e di identità. Per noi è stata un'occasione per metterci alla prova con qualche cosa di nuovo. Ci è piaciuta l'idea di presentarlo stamattina, di presentarlo a chi poi, alle emittenti televisive che poi proporranno questo spot, anche perché siamo vicinissimi, siamo alla vigilia nel periodo delle iscrizioni. Quindi è anche corretto, vorremmo essere il più chiaro possibile, volemmo esprimerci in maniera chiara con le famiglie. Questa è la nostra scuola, questa è una scuola che può davvero consentire a ciascuno di realizzarsi in un settore lavorativo che oggi sta vivendo un momento molto felice e che però richiede tanta passione, tanto sacrificio, tanta professionalità. Ci stiamo impegnando a portare avanti una serie di iniziative progettate dal mese di settembre. Lo stiamo facendo dotandoci di strumenti che riescano a tradurre in pratica le nostre decisioni. Abbiamo pubblicato, abbiamo redatto dei regolamenti che sono la nostra guida per le attività negoziali, per la possibilità di definire un albo dei fornitori per quanto riguarda l'acquisto di servizi e forniture. Abbiamo anche stabilito dei criteri e limiti per la stipula di contratti di sponsorizzazione. Desideriamo avere collaborazioni sul territorio più o meno ampio, delle collaborazioni che siano improntate intanto ad una condivisione sulle finalità della scuola e desideriamo mettere a conoscenza la platea dei nostri possibili collaboratori che tutti questi strumenti sono pubblicati nella sezione amministrazione trasparente e che questo ci può consentire poi di realizzare tutti quei progetti che abbiamo all'inizio dell'anno con il collegio dei docenti e con il consiglio di istituto deliberato e pensato per gli studenti di questo istituto, sia dei corsi diurni sia dei corsi serali perché questa scuola ha una interessantissima offerta di corsi serali che sono dedicati a chi ha interrotto gli studi, a chi decide di convertirsi in una professione lavorativa differente rispetto a quella che ha intrapreso o a chi accarezza l'idea che il mondo della ristorazione sia un sogno messo nel cassetto che può essere tranquillamente riaperto. Diciamo che è stato veramente molto semplice perché i ragazzi, come ho detto prima, hanno un'energia sempre al massimo, pazzesca e hanno una marcia in più che li rende unici, quindi lavorare con loro è sempre un piacere. Tra sorrisi e professionalità ci siamo trovati veramente bene.